Inizieranno a stretto giro i lavori aggiudicati per l'ampliamento del cimitero di Sant'Atto a Teramo, 80 loculi che verranno realizzati, costo dell'intervento 250.000 euro. Inoltre entro pochi giorni saranno pronte le altre gare per interventi simili in altri 6 cimiteri frazionali, per la realizzazione totale di 215 loculi. È stata fatta già la gara, adesso è stata aggiudicata la gara e la verifica dei requisiti all'ufficio contratto appalti. Quindi nelle prossime settimane avremo l'aggiudicazione definitiva alla ditta e quindi potremo iniziare la prima grande opera, la prima grande risposta al territorio frazionale per dare nuovi loculi nella frazione di Sant'Atto che era non so se 10 anni, forse più di 10 anni che non venivano realizzati. C'è un tempo veramente incredibile. Contestualmente stiamo portando avanti anche la risposta ad altri cimiteri frazionali. Parliamo di Poggio Cono, di San Nicolò, di Cavuccio, di Putignano, di Forcella e anche Miano, dove saranno realizzati per l'emergenza proprio dei loculi un numero minimo, una risposta minima, ma che potrà essere sufficiente per bypassare questo periodo nel quale non sono state risposte da parte dell'amministrazione comunale. Per Sant'Atto abbiamo 80 loculi e una spesa di circa 200-250 mila Euro. Per quanto riguarda invece tutte le altre frazioni che abbiamo prima enunciato, ovvero Poggio Cono e San Nicolò, Cavuccio e Miano, Forcella e Putignano saranno suddivise in tre lotti, la spesa complessiva è di 421 mila Euro, di cui 70 che verranno presi dall'avanzo d'amministrazione, mentre la restante somma sarà finanziata di 365 mila Euro, i 350 mila Euro saranno finanziati con la vendita dei loculi e quindi senza nessun tipo di esborso da parte dell'amministrazione comunale.